Allora, nonostante siamo un po' stretti, avete visto la X, è partita da lì a qui, da lì a lì e da qui dalle X. Adesso, le nostre ragazze in gruppo ci faranno un esercizio sulla musica, uno dei testi che oggi ascolteremo nel concerto dei ragazzi C. Faremo Disney Parade. È un esercizio di gruppo in cui le nostre majorette eseguiranno una coreografia su metri di musica Disney. Squadra Ad, uno, due. 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 Grazie! Grazie!